signore e signori buongiorno 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 e benvenuti qui al comunale nel centro del centro storico benvenuti ebbene sì ebbene sì mi mancava proprio il palcoscenico ne avevo bisogno ed eccoci qua finalmente tornati almeno così in questo modo assolutamente eh privo di spettacolo perché come sapete gli spettacoli sono assolutamente vietati perché si rischiano assembramenti e cose varie allora vengo a riascoltare il suono delle tavole del palco perché davvero mi mancava tantissimo stare quassù anche se c'è il telo di proiezione del cinema ma poco importa è una meraviglia comunque anzi tra poco vi faccio vedere cosa c'è dietro cosa si nasconde dietro il telo di proiezione che è poi la parte più bella come vedete il sipario e poi le varie poltrone ovviamente siamo comunque in siamo chiusi quindi c'è qualcosa fuori diciamo in disordine ma perché i lavori proseguono perché quando riapriremo perché prima o poi riapriremo deve essere davvero tutto perfetto per accogliere il nostro pubblico con una grande festa del teatro e del cinema io questo ve lo svelo in anteprima sarà una festa immensa non sappiamo quando non sappiamo come non sappiamo perché ma sappiamo che ci sarà ci sarà una grande festa intanto il comunale il centro del centro storico vi saluta con tutte le sue luci accese ovviamente non i fari ma le luci in platea sono accese questo suono sentite questo suono meraviglioso è chiaramente il suono del palcoscenico del 1959 su questo palco vittorio gasman ehm dario foe ehm massimo troisi ide filippo eh si dice anche totò addirittura si dice si dice anche totò insomma una meraviglia assoluta qui su questo palcoscenico eh e ancora davvero tantissimi personaggi straordinari fino ad arrivare ai giorni nostri quando abbiamo avuto eh qui Oliver Stone abbiamo avuto eh Nicola Piovani abbiamo avuto Leo Gullotta insomma una serie di personaggi in meraviglia Maria Grazia Cucinotta, Ambrangiolini, spettacoli strepitosi e ovviamente noi i piccolissimi del teatro incanto che prima o poi torneranno qui sul palcoscenico che vi faccio vedere andando dietro le quinte perché la meraviglia è proprio questa perché quando si toglie poi vedete le corde tutte quante con i mantegni come si chiamano scusate se sono sbattuto e quando si toglie poi il telo di proiezione ovviamente si vede questo questo meraviglioso palcoscenico con una graticcia eccola lì altissima vedete la graticcia perché è proprio fatta a forma di grate ed è lì che si svela il vero mistero del palcoscenico laddove ci sono tutti i vari tralicci e sostegni per alzare le scenografie per i motori per il sostegno delle americane che sono queste barre straordinarie che appunto sostengono i fari oggi sono praticamente tutte vuote quasi vuote con le varie corde i vari fari vedete ovviamente tutto quanto in allestimento ed è una meraviglia assoluta assoluta prima o poi torneremo a vivere questo spettacolo del cinema teatro comunale il centro del centro storico saluto tutte le persone che ci stanno salutando grazie grazie a tutti grazie davvero ce la faremo ce la faremo manca poco e tra le altre cose tra le altre cose io voglio dire una cosa non so quanto manca effettivamente perché si riapra ma prima o poi riapriremo sentite il suono del palco del comunale questo è puro legno del 59 che abbiamo voluto farvi vivere e qui come vedete non è esattamente piano ve l'avevo già svelata questa cosa ma c'è una piccola pendenza del 3 per cento che è il declivio si chiama proprio in questo modo ed era fatta apposta per consentire agli spettatori di vedere meglio oggi le scuole di danza si trovano un po così così su questo palcoscenico in pendenza nel senso che sono abituate ad avere il palcoscenico dritto ma devo dire che poi si adattano e con le diagonali non non trovano nessun tipo di problema anzi ad avercene oggi palcoscenici così aperti e attivi ovviamente perché sarebbe sarebbe davvero un sogno in questo momento poter riprendere a fare teatro ma vi voglio vi voglio cominciare a svelare qualcosa perché stiamo pensando a una grazie franci torneremo alla grande grazie tesoro mio e perché vi voglio svelare una cosa perché a breve lanceremo una grande sorpresa per natale un qualcosa di meraviglioso per natale grande carlo troiano anche lui fa autore di questo piccolo miracolo qui nel centro del centro storico ma per natale vogliamo farvi una sorpresa un regalo un 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 regalo vero e proprio per natale che voi potrete fare ad altre persone insomma stiamo stiamo cercando di lanciare una nuova iniziativa a breve avrete tutti i dettagli ma per natale preparatevi perché noi abbiamo bisogno del vostro sostegno e voi potrete fare un grande regalo alle persone che vi stanno vicino insomma immagino che sarà una cosa meravigliosa questa l'avevate già vista mi sa questa è la prima insegna del comunale che stiamo ripristinando per il museo si legge teatro comunale si piano piano la metteremo a posto e poi la esporremo qui nel museo del centro del centro storico ma per il momento ci accontentiamo di averla qui perché la dobbiamo sistemare quanto mi mancano quei passaggi a chi lo dice amico mio a chi lo dici quanto ci manca il palcoscenico sono qui apposta sono qui proprio perché sentivo la necessità si capisco tutto capisco il lockdown avevo da fare delle cose per lavoro ovviamente e quindi eh sono tornato per per stare in ufficio poi il richiamo del palco era troppo non mi vergogno a dire che mi stai facendo piangere con questa diretta grazie carlo grazie davvero lo so lo so perché questo posto ce lo siamo davvero sudati lo abbiamo fatto rivivere con tanto tanto impegno e speriamo di davvero di poter tornare presto vedete qui dietro poi tra l'altro non è che è finita perché qui dietro c'è poco spazio ma c'è un altro schermo che serve proprio per le proiezioni per le retro proiezioni per proiettare la scenografia dietro per luci per proiettare immagini vedete quindi questo qui volendo sale e noi poi mettiamo le scenografie questo invece il fondale nero e tutto quello che abbiamo fatto per far rivivere questo posto è una cosa meravigliosa lo so è vero ha ragione carlo si ci sarebbe da piangere ma noi vogliamo sorridere pensando che prima o poi tutto quanto potrà tornare meglio di prima vedete tutto il reparto luci con le teste mobili guardate che meraviglia ragazzi questo è uno spettacolo nella prossima diretta vi voglio far vedere anche vediamo se la trovo da qui no nella prossima diretta che avverrà nei prossimi giorni intanto vi devo svelare quello che avverrà per natale preparatevi perché a breve ci saranno delle novità immense per natale che sicuramente vi faranno vi faranno davvero tanto piacere perché sono delle cose che spero siano inaspettate ma nella prossima diretta vi svelerò che cos'è questo qualcuno lo sa chiaramente che cos'è qualcuno già conosce questo tipo di pertugio diciamo così ma qualcuno non sa che cosa serve come vedete questo qui è proprio un'apertura no a breve nelle prossime dirette vi spiegherò che cos'è la metteremo proprio in funzione cercheremo di capire come funzionava questa è una cosa che non si usa più o meglio non ha più la stessa funzione di una volta ma è una piccola una piccola magia che si svela all'interno del palcoscenico sul palcoscenico e poi i palchetti mamma mia quanto mi mancano i palchetti io di solito guardavo gli spettacoli da lassù ma lassù è chiuso quindi soltanto gli addetti ai lavori potevano andare per vedere qualche spettacolo ma i palchetti erano di una comodità ragazzi di una meraviglia di una intimità bellissimo ognuno che si vedeva dall'alto il suo spettacolo meraviglioso e poi le poltrone vi ricordate quando appena montate le poltrone il giorno dopo un giovane un giovane meraviglioso annoiato aveva lasciato una sciangom una chewing gum scusate una chewing gum subito proprio con le poltrone nuove di due giorni abbiamo dovuto fare dei post abbiamo dovuto ringraziare questo giovane misterioso che ha lasciato la gomma da quel giorno qualcun altro ne ha lasciate ma ne abbiamo sempre sempre rimosse grazie al nostro pronto intervento perché come diceva nino gemelli a robe tutti sa mangiare i cani invece questo teatro che di comunale ha soltanto il nome ma è privato privato de tutto ovviamente noi ci teniamo ci teniamo tanto l'abbiamo voluto far rivivere e insieme alla famiglia proto chiaramente che sempre ringraziamo crediamo tantissimo nel teatro e nel cinema nel centro storico quindi speriamo che questa diretta possa servire a farvi sentire un po di mancanza un po di nostalgia ma anche un po di di sorriso perché a teatro si sorride ci si emoziona si piange quando è giusto piangere ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di teatro abbiamo bisogno di cinema abbiamo bisogno di arte e proprio per questo vi rinnovo l'invito ad andare sul nostro sito www.ilcomunalecz.it dove trovate tutti i film strepitosi della rassegna io resto in sala per cui potete vedere il vostro film a casa direttamente e poi a breve domani dopodomani al massimo vi svelo quello che con il teatro incanto abbiamo pensato per il vostro natale per il nostro natale tutti insieme saremo tutti insieme a farvi un regalo a farci un regalo un sostegno che insomma dovrebbe essere davvero molto gradito signori eh io vi saluto da qui ma che meraviglia vi saluto da qui dal centro del centro storico con tanto tanto affetto mi mancate ma presto torneremo qui vediamo francesca cosa dice inaugureremo per la seconda volta torneremo presto nella casa del centro del centro storico certo che torneremo franci torneremo e come torneremo a fare grandi cose torneremo a divertirci a vivere questo posto straordinario intanto vi saluto così con il suono del legno del comunale che è una meraviglia e poi beh spegniamo le luci mi sembra il minimo allora vediamo un po vediamo un po come faccio a farvi vedere beh penso che così si dovrebbe vedere luci spente e mi manca solo questa qui ma intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima diretta dove vi spiegherò che cos'era quella apertura lì sul palcoscenico e vi svelo il segreto del teatro incanto la sorpresa che stiamo preparando per voi e per noi per questo splendido natale insieme almeno natale ce lo dobbiamo fare insieme in qualche modo ci abbiamo già pensato a presto